Ben ritrovati qui su Le Fonti TV, siamo giunti all'ultima puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo oggi, Gabriele? Parleremo di appalti pubblici, della legge delega che è stata da poco approvata e poi appunto non anticipiamo altro. Bene, allora come sempre, a tra poco. A tra poco. Bene, allora come sempre, a tra poco. E saluto, partendo da Carlo Malinconico, partner dello studio legale Malinconico e Gentile, ben arrivato tra noi. Molte grazie. E saluto anche l'avvocato Domenico Gentile, partner dello studio legale Malinconico e Gentile. Grazie, buongiorno, ben ritrovati a te voi. Bene, allora partirei proprio con una prima domanda sul tema proprio del recente disegno di legge da parte del governo al professor Carlo Malinconico. Ecco, ecco, il recente disegno di legge prevede, da parte del governo, prevede la riforma dei contratti pubblici con tre, soprattutto, missioni fondamentali. L'addiamento al diritto europeo, il riordino e semplificazione della normativa dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture. Quale valutazione dà appunto di questa iniziativa? Cosa ne pensa? Ma innanzitutto è un intervento molto opportuno, perché effettivamente gli appalti condizionano un po' tutta la nostra economia. Anche gli studi della Commissione europea dimostrano che dagli appalti provengono risorse importanti per l'economia. E quindi è giusto che ci sia una grande attenzione su questo profilo, anche con riferimento al piano di resilienza che abbiamo presentato alla Commissione europea, ma che poi dovrà essere attuato in tempi celeri. Direi che gli aspetti che il disegno di legge delega del governo tratta riguardano sommariamente le fonti del diritto e quindi la semplificazione che è effettivamente necessaria, perché effettivamente può essere un deterrente per quanto riguarda gli investitori questa farraginosità delle nostre procedure e dall'altra parte c'è l'aspetto della semplificazione che è pure importante. Quindi c'è un'attenzione giusta a questi profili e c'è una legge delega che ha diversi punti che sono meritevoli di consenso, soprattutto l'aspetto della flessibilità che può essere inserita tramite l'esercizio della delega per quanto riguarda queste procedure e poi anche l'attenzione agli aspetti più di dettaglio, quali la maggiore flessibilità, come dicevo, delle procedure, la ricerca di una soluzione per il partenariato pubblico privato, la considerazione che è bene non eccedere troppo in automatismi in queste procedure, insomma quindi è importante. Se c'è un aspetto invece che mi pare un po' più critico è che effettivamente il disegno di legge delega mostra di puntare molto sulla qualificazione degli operatori a cominciare dalle stazioni appaltanti e questa è una giusta previsione, però purtroppo si prevede che questa riforma dovrà avvenire come avviene sempre da parte nostra a costo zero e quindi io invece penso che la qualificazione degli operatori debba essere ricercata anche proprio con la professionalità accentuata di questi ultimi, perché altrimenti la strada è molto in salita. La ringrazio, io poi invece passerei a questo punto la parola all'avvocato Gentile, al quale invece parlo, vorrei chiedere qualche parere relativamente al modello Genova. Volevo un attimo capire la sua opinione in quanto ci sono due fazioni, chi è a favore e fautore del modello Genova che invece ritiene che non si debba zerare completamente il codice dei contratti pubblici. Lei invece cosa ne pensa tal proposito su questo tema? Bene, io mi ascrivo alla schiera di quelli che considerano il modello Genova un'esperienza positiva ma frutto dell'eccezionalità del caso. Era successa una tragedia di dimensioni colossali, il governo non poteva restare indifferente anche alle esigenze sociali ed economiche della città di Genova che del ponte fa una struttura fondamentale per la viabilità. Allora, su accordo con la Commissione europea il governo ha potuto varare una normativa che prevedeva l'applicazione diretta delle direttive europee in deroga a tutti i principi contenuti nel codice. All'inizio, non so se vi ricordate, ci fu anche una polemica con l'ANAC perché non era stata prevista neanche l'applicazione della disciplina antimafia per cui l'ANAC paventava il rischio di infiltrazioni anche nella ricostruzione del ponte. Voglio dire, è stata un'esperienza positiva ma frutto delle circostanze eccezionali che l'hanno determinata. Non era, a mio avviso, ripetibile per l'ordinario, quindi non sono mai stato d'accordo con coloro i quali dicevano che siccome è andata bene ed è stata veloce la ricostruzione del ponte Morandi si doveva estendere quel modello a tutti gli appalti pubblici. Dopodiché, io mi sono occupato del contenzioso del ponte di Genova e dico anche che le ricorrenti ponevano questioni di incostituzionalità per nulla peregrine. Quindi, quando si opera in deroga, ci sono anche i principi, almeno i principi costituzionali, i principi europei, lo diceva la legge stessa, da rispettare e non si sa se quella procedura in effetti li rispettasse a pieno. O meglio, la Corte Costituzionale poi per fortuna ha dato il suo placet ma proprio a causa dell'eccezionalità della misura. Sono invece pienamente concorde, l'avevo già detto altre volte, con l'indirizzo poi scelto dal governo Draghi che è quello di proseguire col codice del 2016 che è un buon codice, devo dire, in continuità anche con il codice del 2006 recepisce le direttive e affronta diversi altri argomenti e problematiche che comunque si ponevano come quella dell'anticorruzione tutti i poteri attribuiti all'ANAC, il potere di soft regulation attribuito all'ANAC insomma erano le novità del 2016 che distinguevano quel codice da quello che lo aveva preceduto, da quello del 2006. Quindi bene ha fatto il governo a proporre una delega al Parlamento l'approvazione di una delega al Parlamento che prevede di aggiustare in questo codice quello che nei fatti si è visto non andare bene come l'albo dei commissari è previsto dalla legge delega l'eliminazione, era stato più volte prorogato il termine di avvio del nuovo albo dei commissari presso l'ANAC alla fine come tutte le altre norme temporanee viene data una soluzione transciante nel senso che si è capito che non può funzionare e lo si elimina è stato previsto il rafforzamento delle tutele sociali, un altro criterio di delega è stata prevista la tipizzazione dei casi in cui si può procedere con il sistema del prezzo più basso e sono tutte questioni che la giurisprudenza in questo periodo ha affrontato e ha risolto in un certo modo e che è bene diciamo recepire a livello legislativo per dare certezza agli operatori c'è poi il completamento di alcuni istituti lo diceva bene prima il professor Malinconico la legge delega fa della qualificazione delle stazioni appaltanti di punto nevralgico ma questo lo ripetiamo un po' tutti quelli che si occupano della materia da diverso tempo era anche questa una questione qualificante del codice del 2016 non è mai stata attuata perché ci volevano i provvedimenti attuativi che non sono stati ma diciamo che l'amministrazione che indice l'appalto debba avere delle professionalità adeguate è una legge di logica prima ancora che di disciplina positiva per cui è necessario sicuramente che le stazioni appaltanti siano sottoposte a un valio di adeguatezza rispetto ai compiti che gli sono attribuiti è un valio di competenza che deve essere anche nei confronti del personale dipendente quindi la formazione come diceva il professor Malinconico che non può avvenire a posto zero evidentemente della classe dirigente e dei funzionali anche le centrali di committenza il codice insiste il disegno di legge delega insiste sul modello della centralizzazione della committenza e quindi della riduzione delle stazioni appaltanti ma proprio questo se non si passa per un percorso di professionalizzazione di alta professionalizzazione delle stazioni appaltanti le centrali di committenza non sono esempi e devo dire su questo punto attraverso il vostro canale lancio una proposta secondo me andrebbe completata andrebbe rivista la disciplina contenuta nel codice del 2016 sulla qualificazione delle stazioni appaltanti laddove non prevede che debbano essere qualificate anche le centrali di committenza e i soggetti aggregatori perché proprio perché saranno le stazioni appaltanti del futuro devono essere quelle più attrezzate e meglio formate di tutti quanti La ringrazio, benvenga ovviamente l'appello che lei ha fatto utilizzando questa importante piattaforma io a questo punto passo invece la parola nuovamente al professor Malinconico parlando invece del tema delle concessioni in quanto si è spesso negli ultimi tempi parlato di concessioni e degli obblighi soprattutto a carico per quanto riguarda la manutenzione che viene svolta da parte appunto dei concessionari un tema molto delicato vedendo anche il pregresso e quindi i fatti di cronaca il disegno di legge delega quindi riguarda anche questo aspetto questo tema? Sì, riguarda anche questo tema che come lei diceva effettivamente è un tema molto scottante perché noi siamo passati anche attraverso una privatizzazione che ha tracciato un percorso di privatizzazione che i concessionari spesso tengono presente proprio nel loro modello di business però è chiaro che effettivamente il rispetto degli obblighi della concessione è un aspetto che deve essere assolutamente salvaguardato perché altrimenti soprattutto sulla manutenzione effettivamente c'è bisogno di una grande attenzione su questo tema perché soprattutto nella manutenzione a mio avviso negli scorsi decenni si è fatto molto poco una volta per alcune stazioni appaltanti pubbliche per mancanza di risorse e per invece i concessionari nell'ottica di una incentivazione del profitto che ci sta naturalmente però che deve essere molto valutato e compensato per evitare che ci siano delle sciagure come quelle che abbiamo poco fa menzionato quindi è importante e naturalmente ecco quello che è anche importante è che nel partenariato pubblico privato e molto spesso le concessioni rispondono a questo modello ci sia un'attenzione soprattutto negli strumenti del PEF quindi del piano economico finanziario che siano adeguati alla necessità di una concessione che sia effettivamente valida e poi anche l'adeguamento successivo ora in questi settori effettivamente parlo soprattutto dell'autorità dei trasporti e l'esigenza che ci sia una regia di tutti questi temi è a mio avviso assolutamente essenziale e non solo e non tanto non sempre meglio questa regia è stata condivisa dagli operatori e quindi però in questo modo si rischia effettivamente di fare come dire repubbliche indipendenti nel nostro paese nel senso che non si rispettano le regole generali a caso di qualche situazione di tutto particolare ecco io mi fermerei qui perché il tema è molto complesso naturalmente la ringrazio poi magari avremo anche in futuro altre occasioni per poter approfondire meglio queste tematiche che comunque sono interessanti passo adesso invece la parola nuovamente all'avvocato Gentile in quanto gli ultimi minuti di chiusura di questa prima parte di doppio binario vorrei farli facendo appunto ponendo un'ultima domanda all'avvocato Gentile parlando sempre del disegno di legge delega da parte del governo il quale fa riferimento come criteri di delega alla revisione della disciplina e dell'appalto integrato e alla giurisprudenza però le chiedo se non si ha un quadro di riferimento troppo indeterminato secondo lei in questo modo sì se capisco bene tra i criteri di delega c'è anche quello di recepire gli approdi giurisprudenziali sui principali studi del fatto e questo effettivamente come dice lei a mio avviso è un criterio un po' indeterminato proprio perché come diciamo spesso la giurisprudenza non è univo che in materia d'appalti non aiuta gli operatori di settore a scelte univo che non aiuta la certezza del diritto la stabilità delle decisioni è una chimera in Italia quando un criterio di delega mi fa riferimento agli approdi giurisprudenziali almeno dovrebbe dire anche a quali organi si riferisce quando le direttive europee dicono che le ultime direttive che vanno anche recepiti gli indirizzi giurisprudenziali parlano della giurisprudenza della Corte di Giustizia cioè della giurisprudenza di quell'organo che interpreta il diritto europeo è quella interpretazione deve essere osservata da tutti allora è chiaro che questo è un criterio di delega sufficientemente determinato quando si fa riferimento alla giurisprudenza interna ma devo dire che anche le pronunzie della bonanza plenaria il professor Malinconico lo sa bene perché su questo argomento è arrivato addirittura alla Corte di Giustizia è l'indicazione degli onivi della sicurezza in offerta appena di esclusione non appena di esclusione sono stati oggetto di pronunzie della dunanza plenaria ripetute almeno 4-5 interventi della plenaria in 2-3 anni cosa che un tempo non si poteva mai immaginare gli interventi della plenaria dovrebbero essere vari su un argomento fissi e stabili ovviamente perché devono dare l'indirizzo a tutti gli altri giuris questo criterio di delega laddove fa riferimento agli indirizzi giurisprudenziali mi sembra un po' generico sull'appalto integrato anche questo è un argomento molto scottante che è stato affrontato in termini divergenti dalla disciplina degli ultimi ventenni devo dire già la legge 109 del 94 la cosiddetta legge Merloni faceva riferimento all'appalto integrato e lo ammetteva in casi determinati ad esempio quando l'amministrazione procedesse con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa dopodiché si passò con il codice unico del 2006 si passò a una disciplina un po' più aperta si rese l'appalto integrato in qualche misura accessibile per tutti gli appalti soprattutto con le modifiche al codice del 2006 perché la versione originale proseguiva nell'impronta della legge Merloni col codice del 2016 questo che adesso sarà aggetto di riforma c'era un divieto assoluto di appalto integrato quindi si passava all'eccesso opposto evidentemente se ne accorsero subito anche sul codice del 2016 i suoi revisori la prima riforma importante quello che avvenne con lo sblocca cantieri liberalizzò però a termine questa volta l'appalto integrato adesso si parla di tipizzare i casi cioè di dire i casi in cui è ammessi si torna sostanzialmente alla legge 109 del 1994 però tipizzare i casi che cosa vuol dire? si sta dicendo che il governo è d'accordo che l'appalto integrato è uno strumento utile il governo il Parlamento cioè quando verrà approvata la legge evidentemente l'appalto integrato è ammesso come strumento utile quindi ne va diciamo incentivata l'utilizzazione anche perché ad esempio l'appalto integrato ovviamente è quando l'amministrazione insieme all'opera pubblica appalta anche la progettazione e se il concorrente si aggiudica progettazione ed esecuzione dell'opera è più difficile che impianti riserve e storie in corso di esecuzione sulla bontà della progettazione che è adesso imputabile sono d'accordo che questo è uno strumento utile sul quale occorre proprio per ridimensionare i termini di realizzazione delle opere pubbliche occorre fare riferimento quindi tipizzazione dei casi in che termini nel senso che devono essere tanti casi o devono essere limitati proprio perché tipici quindi anche su questo punto ci vedo un po' di genericità nell'indirizzo che la legge delega attribuirebbe o che è approvata in questi termini al governo poi ovviamente questa è una proposta di legge delega quindi il governo trasmette al Parlamento sul quale il Parlamento farà i suoi emendamenti evidentemente è un testo migliorabile voglio dire bene speriamo ovviamente che ci siano insomma dei passi verso questa direzione per avere maggior definizione diciamo ecco su questi punti che sono un po' nebulosi se vogliamo come definirli in questo modo io ovviamente ringrazio gli ospiti in collegamento faccio ovviamente chiudo questa prima parte di doppio binario ma invito comunque sia il professor Carlo Malinconico che l'avvocato gentile entrambi partner dello studio legale Malinconico e gentile a restare innanzitutto li ringrazio e a restare in collegamento grazie per essere stati qui con noi in questa prima parte di doppio binario molte grazie anche da parte nostra bene pochi minuti di pubblicità e poi rientriamo in studio con la seconda parte di doppio binario con Gabriele Ventura a tra poco ben ritrovati ai nostri telespettatori per la seconda parte di doppio binario continuiamo a parlare di appalti pubblici in particolare della legge delega di cui abbiamo ampiamente parlato nella prima parte e ci concentreremo in particolare su alcuni dettagli tecnici anche grazie a un nuovo ospite che ci ha raggiunto anche sempre se sempre in collegamento lo presento subito la dottoressa Alessandra Zuzzi responsabile di stazione appaltante in materia sanitaria buongiorno benvenuta buongiorno e grazie per l'invito grazie a lei per essere qui con noi saluto anche l'avvocato Carlo Malinconico partner dello studio legale Malinconico e Gentile buongiorno anche da parte mia grazie molto anche buongiorno da parte mia e saluto anche l'avvocato Domenico Gentile partner dello studio legale Malinconico e Gentile benvenuto anche a lei grazie buongiorno buongiorno a voi rispetto a me bene parto da lei professor Malinconico e le chiedo il testo della legge delega prevede che sia semplificata anche la fase della progettazione e la fase esecutiva mentre non era prima considerata dalla normativa che si concentrava soprattutto sul momento della gara le chiedo questo può essere il momento di svolta? Sì secondo me sì perché effettivamente quando si parla delle gare certamente è un argomento molto consistente per accelerare le procedure di appalto però non è soltanto questo purtroppo perché le procedure delle gare sono previste e anche i termini sono normativamente già stabiliti ed è e sono anche il controllo giurisdizionale in genere è molto rapido da parte del TAR e del Consiglio di Stato quindi è vero che c'entrata l'attenzione sulla gara però è anche vero che non è solo quello perché altrimenti se si perde di vista la progettazione e anche l'esecuzione del contratto di appalto si fa una riforma a metà e quindi è importante questa sottolineatura che riguarda appunto la frase della progettazione e anche dice la legge delega eventualmente con una riduzione dei livelli di progettazione vediamo quello che sarà la previsione però effettivamente è un aspetto molto importante così come quello dell'esecuzione e già nel regime precedente mi riferisco soprattutto a quello del decreto legge semplificazioni effettivamente c'erano degli istituti proprio volti a semplificare le controversie che sorgono in materia di esecuzione con la previsione per esempio di un comitato tecnico consultivo che deve cercare di superare in modo rapido le controversie le riserve che vengono fatte spesso dall'appaltatore quindi tutto questo insomma serve per dare certezza di tempi che è poi la riforma che tutti chiedono certo la certezza sui tempi è fondamentale anche per quanto riguarda chiaramente gli investimenti dottoressa Zuzzi passo a lei e le chiedo gli appalti non riguardano soltanto le grandi opere ma anche il settore dei servizi quali sono le maggiori criticità in questo particolare settore allora il mercato dei servizi è un mercato complesso ha delle caratteristiche diverse ovviamente da quello dei lavori pubblici è ancora diverso da quello dei beni in sanità è un mercato che ha delle caratteristiche spesso oligopolistiche e quindi muoversi soprattutto come soggetti aggregatori quindi centrali di acquisto in questo ambito è complesso le vicende di questi anni che hanno appunto caratterizzato le gare centralizzate hanno mostrato dei problemi non facilmente risolvibili anche se la legge delega ovviamente cerca di puntare a semplificazione contenimento dei tempi di applicazione nell'ambito sociale sono tutti diciamo principi che sono già contenuti ovviamente nelle direttive nel codice ma che sarebbero base a questi indirizzi ulteriormente resi più semplici e meno complessi meno contorti perché la nostra legislazione è legislazione italiana è abbastanza complicata la mia personale opinione è che sono ottime intenzioni anche nell'ambito del diciamo così nell'ambito dei servizi che dovranno però essere passare un banco di prova perché perché l'applicazione finora in tutti i casi in cui si è cercato di semplificare in realtà ha portato a complicazioni il discorso dei tempi definiti io che lavoro in un'amministrazione centrale non sono facili nel senso la legge ora prevede sei mesi per la chiusura di appalti sopra soglia europea compresi i tempi di presentazione delle offerte di valutazione della commissione tutto quello che insomma porta alla giudicazione questo è molto difficile da ottenere anche perché spesso lavoriamo con commissari in sanità che in realtà sono impegnati già nel fronte professionale e quindi non è che li possiamo portare all'interno dell'amministrazione e tenerli qui in continuazione i tempi sono quindi una criticità e credo che lo saranno anche in futuro anche se a meno che appunto alcune fasi non vengano snellite in maniera marcata per dire la fase di valutazione della busta amministrativa che sembra essere che è stata semplificata in realtà adesso col soccorso istruttorio porta comunque lungaggini quindi sono tempi che forse con un'inversione procedimentale o con altre modalità si potrebbero tagliare altri aspetti riguardano la clausola sociale l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ma questo non vorrei magari rubare il campo a chi non è esperto ecco avvocato gentile infatti passo passo a lei la parola e le chiedo appunto restando sullo specifico settore dei servizi quali modifiche a suo avviso sarebbero necessarie e come si fa appunto a semplificare senza complicare allora mi ricollego a quello che stava dicendo la collega amica Alessandra Zuzzi in realtà io non sono più esperto di lei sto semplicemente da un'altra parte diciamo dall'altra parte dell'arbaricata spesso assisto le imprese lei invece è un importante dirigente di stazione centralizzata stazione appartante centralizzata quindi la stazione unica del Veneto e immagino quante problematiche anzi qualcosa la so quante problematiche debba affrontare quotidianamente per risolvere le gravi lacune che comunque ci sono nel codice a volta i funzionari e i dirigenti si chiede l'impossibile come questa di chiudere le gare in sei mesi che è stata introdotta dall'ultimo decreto semplificazioni ma poi si dovrebbe chiedere al governo anche con quali risorse si possono fare certi perché giustamente dice la dottoressa quando noi nominiamo le commissioni che commissioni ecco l'albo come dicevamo prima nella prima parte della trasmissione l'albo dei commissari ANAC è tramontato non sarà più non è più un obiettivo bene perché le stazioni appartanti possono fare riferimento a commissari che nomineranno perché sanno capaci in quello specifico settore per esempio quando si deve valutare diciamo l'acquisto di medicinali in sanità non si può che fare riferimento alle professionalità che gli ospedali hanno ma che purtroppo fanno anche altri mestieri evidentemente purtroppo per fortuna per noi tutti che siamo gli utenti della sanità e allora diciamo ecco distogliere magari i medici perché devono stare in commissione e chiudere la gara da lavori importanti che possono comunque avere e che sicuramente hanno non possiamo per aggiustare una cosa ecco costarne un'altra che funziona detto questo diciamo giusto giusto in premessa i problemi ci sono e sono risalgono anche a tempo prima dell'approvazione dell'entrata in vigore del codice del 2016 anche nei rapporti nello specifico settore dei servizi ma nei rapporti tra centralizzazione ad esempio e piccole e medie imprese quindi possibilità di partecipare alle gare d'appalto da parte delle piccole e medie imprese e quindi una certa equiparazione nel parcondicio nelle modalità partecipative nelle chance che si danno devo dire l'Europa punta molto sullo sviluppo del mercato delle PMI è uno dei profili cruciali delle direttive del 2014 è proprio quello lo sviluppo e l'incremento del mercato delle PMI quando le imprese si ingiganti quando gli appalti si ingigantiscono per forza di cose anche i requisiti diventano più elevati e qualche difficoltà partecipativa le PMI iniziano ad avvertirla quindi in un momento in cui si spinge per l'ampliamento del mercato delle piccole e medie imprese andare a centralizzare e ingigantire gli appalti noi abbiamo sempre detto è un po' in contraddizione e questo le direttive lo consentono in realtà ma dicono sempre che bisogna stare attenti nella centralizzazione a non far danni appunto all'ampliamento del mercato in favore delle PMI così come anche agli appetiti illeciti diciamo così perché le grandi gare fanno in qualche misura gola agli apparati non diciamo non leciti alle prassi che invece le direttive vogliono combattute insomma giustamente le direttive mirano anche la lotta alla corruzione e incentivano gli stati membri ad aumentare questa lotta alla corruzione quindi un problema nel contrasto che c'è tra centralizzazione e un contrasto diciamo di finalità tra centralizzazione e ampliamento del mercato delle PMI e lotta alla corruzione tante altre cose si potrebbero semplificare nel settore dei servizi ma purtroppo diciamo l'attenzione che il legislatore dedica agli appalti di opere pubbliche non è mai quella che dedica anche agli appalti di servizi si pensa sempre prima alle opere e poi si estende la disciplina ai servizi in questo caso dobbiamo salutare favorevolmente una previsione che finalmente c'è di differenziazione laddove nella nella riforma degli strumenti di negoziazione attraverso il partenariato pubblico privato invita il governo a stabilire una disciplina specifica per le concessioni quindi per i PPP i progetti in generale di servizi quindi una disciplina specifica che secondo me andrebbe pensata prima o poi dovremmo pensare di introdurre anche per gli appalti ordinari e non per le concessioni perché una cosa ripeto sono gli appalti di lavori e altra cosa sono gli appalti di servizi ad esempio negli appalti di lavori il sistema di qualificazione delle imprese cioè di selezione dei concorrenti è fondato sulle società organismi di attestazione sulle famose SOA nel settore di servizi invece la qualificazione si fa gara per gara ma allora io mi domando perché continuano a perdurare a esserci iscrizioni in albi che sono superati dal tempo tipo l'albo delle imprese di pulizia presso la camera di commercio con le fasce di classificazione piuttosto che l'albo del facchinaggio l'albo delle imprese che fanno le abilitazioni prefettizie delle imprese che fanno servizi di vigilanza ci sono una serie di duplicazioni di richieste di requisiti che sono un inutile appesentamento burocratico della procedura di gara ecco perché se l'amministrazione poi deve controllare oltre ai fatturati anche le iscrizioni in albi e richiedere mille mille comprove all'esito della procedura si rallentano le gare e non si riesce a chiuderle nel termine di sei mesi è davvero una chimera ma tra l'altro il termine di sei mesi lo dico a beneficio di quello che diceva prima Sandra Zuzzi il termine di sei mesi previsto con minacce di responsabilità contabili del funzionario che non rispetta insomma una serie di reprimende che molti amministratori non meritano ci sono quelli che evidentemente fanno un loli ma la maggior parte devo dire ci mette l'impegno ma poi si trova con strumenti inadeguati assolutamente dottoressa Zuzzi torno da lei appunto visto l'importante ruolo che riveste che abbiamo sottolineato sia sul fronte sanitario sia anche a ruolo anche di carattere associativo le chiedo di fare un po' una riflessione finale per quello che riguarda questa legge delega lo ricordiamo è un punto di partenza che poi chiaramente dovrà essere sviluppato e vedremo come prego intanto grazie allora si riprendo il tema dell'aggregazione e del mercato delle piccole medie imprese che si sposa che si sposa nel senso che un po' è in contraddizione con una delle linee che vedo nella legge delega cioè quella della qualificazione che va benissimo delle stazioni impaltanti e della loro riduzione perché ovviamente in sanità abbiamo dei soggetti aggregatori regionali che hanno gestito e accentrato le tematiche di appalto e già quindi un processo di aggregazione faticoso come ha sottolineato l'avvocato Gentile e come io stessa vi confermo è avvenuto il fatto di aggregare gli appalti in un unico soggetto e poi richiedergli di come dire fare una politica di frazionamento ovviamente dei bandi e delle forniture che vanno a gara frazionamento che è un termine pericoloso fra l'altro perché è anche vietato dalla legge ma bisogna vederne i termini naturalmente modi eccetera è una bella sfida nel senso che anche la mia esperienza di aver portato a termine o avere in corso insomma nella parte di ricorsi tutta una serie di gare di servizi mi dice che mettere sul mercato i contratti di un'intera regione in un certo ambito di servizi sanitari ristorazione nella vanolo crea tutta una serie di problematiche e un intrico anche a livello di ricorsi che non deriva tanto dai tempi ormai veloci di dare consiglio di stato ma anche dalla complessità cominciamo con i ricorsi sull'accesso agli atti accesso civico che si è complicato notevolmente per poi andare avanti con tutta una serie di ricorsi incidentali e via di seguito o temperanze più ne ha più ne metta insomma quindi la materia è complessa io spererei appunto che in qualche modo il legislatore riesca a darci una linea per riuscire a uscire da questo impasse ovviamente non è semplice perché poi anche le pronunce giurisdizionali sono in senso spesso diverso opposto quindi anche noi facciamo molta fatica a a scegliere una linea a me è capitato di partire con gare a lotti e poi di finire in un intrico di ricorsi riguardo alla posizione del vincolo cosiddetto di aggiudicazione un numero massimo di lotti da giudicare o meno io sono stata censurata perché non ho messo il vincolo un collega di un'altra regione sempre responsabile di un soggetto aggregatore è stato appunto ripreso e ha avuto un'ispezione della guardia di finanza perché ha messo il vincolo veramente non sappiamo più da che parte come muoverci insomma senza rischiare anche personalmente perché insomma non è proprio una cosa simpatica quindi speriamo che il legislatore che dovrebbe essere insomma mi sembra di capire che all'opera c'è insomma le massime competenze in consiglio di stato corte dei conti eccetera ANAC quindi se loro insomma ho trovato intelligente che fossero coinvolti in questa cosa perché poi chi ci crea eventuali difficoltà sono loro nel senso che magari ANAC sceglie una strada consiglio di stato va per un'altra il TAR dipende e quindi ecco se loro riuscissero a trovare una quadra su alcune questioni importanti i tempi l'anomalia il contenzioso una serie di questioni molto ampie per noi sarebbe importante ecco avere delle linee precise su cui muoverci su determinati argomenti questo è un po' l'auspicio io avendo tantini alle spalle sono vecchia della professione sono un po' come dire non sono proprio così fiduciosa però speriamo di vedere insomma questo momento storico per il nostro paese di vedere qualcosa di meglio di qualcosa finalmente risolutivo esatto infatti è un momento storico molto particolare è una delle tante sfide che ha aperto questo governo e insomma confidiamo che ci siano effettivamente dei passaggi risolutivi bene io vi ringrazio per essere stati con noi la dottoressa Alessandra Zuzzi responsabile di stazione appaltante in materia sanitaria grazie anche al professor Carlo Malinconico partner dello studio legale Malinconico e Gentile molte grazie dell'occasione di discussione e grazie anche all'avvocato Domenico Gentile partner sempre dello studio legale Malinconico e Gentile scusate grazie a voi grazie un gran piadere grazie grazie anche ai nostri telespettatori è l'ultima puntata di doppio binario quindi grazie per averci accompagnato in questo lungo percorso grazie a tutti i nostri ospiti che sono stati con noi e vi do appuntamento insomma alla prossima puntata di appunto legata all'ambito legale sempre sulle fonti tv grazie a tutti